Settimana cruciale per la giunta regionale. Fino a martedì prossimo sedute di consiglio all'Aquila per approvare il bilancio 2015 all'interno del quale fare anche le necessarie modifiche sul capitolo sanità. Cominciamo domani con le audizioni presso la commissione bilancio. Ieri si è tenuta la conferenza dei capigruppo per la sessione di bilancio che ha espletato le proprie attività producendo il calendario. Si arriverà in consiglio dopo un lavoro di 5 giorni in commissione martedì 23 dicembre. Io credo che sia un buon lavoro, che si sia arrivato in tempo e che è stata fatta una buona scelta, quella di un bilancio con rigore e di rigore che allo stesso tempo però finanzia soprattutto il sociale e che evita quella introduzione di nuove tasse e potendo dare ai comuni 12 milioni di euro per il sostentamento delle prestazioni di servizi sociosanitari. La notizia dei finanziamenti della regione nei ticket che invece verranno ora suddivisi con comuni e utenti aveva preoccupato e molto l'opinione pubblica. Noi abbiamo finanziato per ben 12 milioni di euro il sostentamento dei ticket e quindi lo daremo questo contributo ai comuni in modo da poter allievare e alleggerire di molto anche l'introduzione di questo ticket che per prestazioni sociosanitarie è previsto dalla normativa nazionale in realtà. E quindi è l'unica scelta politica, quella di finanziare il sociale e quella appunto di evitare che per i comuni si sostanzialmente poi traduca nell'introduzione di una nuova tassa. È una scelta molto molto importante. Grazie a tutti.